vita interna di gesù cristo capitolo 4 ciò che praticò il figlio di dio nel suo interno dall'arrivo dei re magi nella presentazione al tempio e nella vita a nazareth in attesa dei magi avvicinandosi il tempo dell'arrivo dei re magi avevo sposa carissima un grande desiderio della loro venuta avevo già fatto molte suppliche al padre mio perché muovesse i loro cuori e li accendesse di un ardente desiderio di venire a riconoscermi come vero figlio di dio però questa luce non l'ebbero finché non furono arrivati alla grotta ebbero un ardente desiderio di vedermi di riconoscermi e di adorarmi ma non mi conobbero per vero figlio di dio finché non mi ebbero veduto vedevo quei buoni re che con tanto desiderio si incamminavano alla mia ricerca seguendo la stella con tanta allegrezza osservavo tutti i loro patimenti e le difficoltà di così lungo cammino ne sentivo una grande compassione pregavo il padre mio a dare a tutta la loro discendenza cioè ai pagani la stessa grazia e lo stesso favore che offriva ad essi affinché potessero arrivare a conoscere e ad adorare il vero dio quanto godevo nel vedere l'anelito di quei re e come per mezzo loro molti sarebbero stati illuminati nella mente per conoscere il loro creatore mi angustiavo molto però nel vedere i loro patimenti che veramente furono molti in così lungo e disastroso viaggio offrivo al padre mio la mia contentezza e la mia pena e lo pregavo che in virtù di questa assistesse sempre più quei buoni re e alleggerisse la pena che soffrivano in quel cammino facendo loro sembrare tutto facile per mezzo dell'amore e del desiderio che ardeva nei loro cuori il tutto faceva il padre mio con altissima provvidenza e disposizione e io restavo consolato un grande desiderio durante il tempo del loro viaggio non mancai di guardarli sempre con occhi amorosi e di invitarli a venire presto a conoscermi gli inviti e gli stimoli della mia grazia penetravano talmente nel loro cuore che avrebbero voluto volare per giungere presto a prestarmi il loro ossequio tributarmi i loro doni e insieme consacrarmi i loro cuori godevo molto sposa carissima nel vedere così ben corrisposto l'invito che a essi facevo non tanto per mezzo della stella quanto per mezzo della grazia efficace che fu data loro dal padre mio in abbondanza ogni tanto rivolgevo gli sguardi ad essi con amore e si sentivano piacesi e infiammati di desiderio e di amore verso di me sentivano penetrare i loro cuori da potenti amorosi lacci e non capivano da dove procedesse un simile amore e desiderio partecipavano e godevano di un santo ardore e come atoniti non sapevano né potevano investigarne la ragione si comunicavano l'un l'altro i sentimenti che sentivano in se stessi e dopo vari discorsi dicevano grande e potente dobbiamo credere che sia questo re di cui andiamo in cerca perché causa in noi effetti così stupendi e così cresceva il desiderio loro operava questi effetti loro la mia grazia in modo tale che a loro arrivo erano già ben disposti e preparati per ricevere la mia legge e per riconoscermi ed adorarmi per vero figlio di dio benché come vi ho detto sopra non arrivarono mai a capirlo né a conoscerlo fin tanto che non furono arrivati alla mia presenza ringraziavo poi il padre della benignità e dell'amore che usava verso di loro degnandosi per sua bontà di chiamarli ed eleggerli ad uno stato così degno e a una vita santa essi poi corrisposero bene alla loro vocazione e si servirono della grazia che aveva loro concessa gradiva i miei ringraziamenti il padre mio e si dimostrava sempre più disposto a donare le sue grazie e i suoi favori a chi fosse stato capace di riceverli e a chi conosceva che avendoli ricevuti se ne sarebbe servito per il bene e per la gloria del padre mio e approfitto dell'animo propria confidenze con la madre stavo con allegrezza ad aspettare l'arrivo dei quei re e lo dimostravo anche all'esterno e da questo ne riceveva consolazione anche la madre mia alla quale manifestare la causa della mia allegrezza perché ne fosse già informata per lo spirito profetico che le aveva dato il padre mio non di meno le manifesta il tutto ed anche il modo con cui doveva comportarsi con i re e come doveva maestrarli e renderli aperti alla mia persona e far loro conoscere il vero dio e come l'eterno verbo fosse unito alla mia umanità vuoi sapere sposa carissima in che modo parlassi alla mia madre in quella tenera età sappi che alcune volte le parlavo al cuore con voci sensibili altre le parlavo di persona ma questo lo facevo molto di rado provava tanta consolazione e allegrezza la madre mia quando le parlavo di persona che ne restava rapita in estasi e tutta infiammata d'amore non stava più in se stessa per la gioia veramente sposa carissima è una cosa assai grande sentirmi parlare in quell'età così tenera tanto più che le parlavo con amore grazie ammirabile questo lo facevo nelle circostanze più rilevanti affinché la madre mia restasse ben ammaestrata e insieme consolata e confortata così feci all'arrivo dei re quando le parlai di persona e la maestrai come vi ho detto sopra e benché lo spirito santo fosse il suo maestro che la illuminava e la guidava come sua sposa carissima non di meno anch'io come figlio amabilissimo la tenevo informata scomparsa della stella mentre ero così consolato non mancarono le amarezze che provai prima dell'arrivo dei re e fu quando arrivati nella città di gerusalemme si nascose ad essi la stella sentivo molto la loro afflizione li vedeva andare in cerca della mia persona con tanto desiderio e avevo per essi una compassione molto grande pregavo il padre mio che si degnasse di consolarli facendo loro avere chiare notizie del luogo dove ero nato e che facesse di nuovo apparire la stella che li guidava non tardò il padre amoroso di adempiere le mie suppliche i loro desideri e presto li consolò gli offrì quella pena che io soffrivo per causa del travaglio di quei buoni re e lo pregai che per quel dolore che io avevo sofferto si degnasse di rimettere nella via della salvezza quelle anime che si trovavano deviate dal retto sentiero e in particolare quelle cui avviene inadvertitamente senza malizia così avvenne a questi re che senza colpa persero la stella quando entrarono nella città non per altro fine se non per andare in cerca di me benché peraltro ebbero poca avvertenza avrebbero dovuto seguire la stella che li guidava per il dritto sentiero accettò la supplica il padre mio e mi promise di voler assistere sempre con la sua grazia quelle anime che mi cercano confine retto e che bramano arrivare alla vera perfezione trovandosi queste a volte deviate dal diritto sentiero non mancherà di dar loro gli aiuti necessari perché ritrovino la via retta che conduce alla gloria eterna lo fa per mezzo dei suoi ministri o per mezzo delle sue sante ispirazioni e con l'aiuto potente della sua grazia nel modo che è più confacente alla salvezza dell'anima che si trova in simile necessità occorre poi che l'anima corrisponda subito alla grazia e agli aiuti divini come fecero questi re che non tardarono a seguire quello che fu loro ispirato circa il luogo della mia nascita e ritrovarono subito la stella smarrita non fanno però così tutti i miei fratelli perché disprezzano chi li ammonisce non ascoltano le divine ispirazioni e ricusano gli inviti della grazia per questo sono molti quelli che incominciando a deviare dal diritto sentiero non sanno più ritornare allo stato primitivo e così per loro colpa precipitano di mali in peggio e senza neppure accorgersene si riducono allo stato di dannazione allora per sollevarli e indurli a stato di vita perfetta ci vuole un miracolo dell'infinita potenza il quale difficilmente il padre mio lo concede vedevo sposa carissima tutti questi disordini dei miei fratelli e ne provavo grande pena piangevo la perdizione di tanti che avendo cominciato bene finiscono poi male e questo per non ascoltare gli inviti della divina grazia offrivo questo dolore che provavo al padre mio e lo supplicavo che facesse ricadere sopra di me i castigli che si meritavano i miei fratelli quanto grande fu davvero il turbine dei flagelli che si abbatté sopra di me con violenza nel tempo della mia passione benché anche in tutto il corso della mia vita ho provato aspre e continue sferzate questo lo faceva il padre mio per adempiere i miei desideri i quali erano sempre di soddisfare la divina giustizia per i debiti dei miei fratelli per renderlo placato verso di essi non gli chiesi mai di usare la sua misericordia verso di me perché desideravo che questa la esercitasse tutta con i miei fratelli volevo invece che la giustizia la esercitasse tutta verso di me come infatti dispose il padre mio volendo che la giustizia restasse soddisfatta con tutto il rigore godevo molto di questa soddisfazione tanto più che in questo davo a conoscere chiaramente a ognuno quanto amassi il padre mio la sua gloria e il suo onore e quanto amassi anche i miei fratelli perché per essi ero sceso dal cielo e fatto uomo per redimerli e salvarli adorazione dei magi arrivata l'ora da me desiderata dell'arrivo dei re alla grotta ove stavo ad aspettarli pregai il padre mio che si degnasse di concedere loro luce e nuova grazia affinché potessero credere al mistero che in me stava racchiuso cioè alla divinità che in me si trovava lo fece il padre mio in modo mirabile quando vedendo i re il luogo così umile a vietto non sdegnarono di entrarvi facendo loro da guida la stella stupefatti dalla meraviglia entrarono pieni di allegrezza e di santo timore entrati che furono fissa gli sguardi verso di loro con grande amore affabilità uniti però ad una regale serietà propria della mia maestà nello stesso tempo li riguardai con gli occhi più potenti della mia divinità e con questi li invitai ad adorarmi i buoni re riempiti di una sovrana consolazione stupiti della maestà che in me scorgevano si prostranano a terra e profondamente mi adorarono in quell'istante pregai il padre mio che si degnasse di rinnovare loro l'interno e di vestirli di nuova e più potente grazia lo fece il padre mio e diede ad essi una luce più chiara per conoscere la mia persona infatti furono mutati nell'interno e piangendo di gioia con gli sguardi fissi nella mia persona stavano così immobili e prostrati a terra non avrebbero osato alzarsi se la madre mia che mi teneva in braccio e sapeva già quello che doveva fare non avesse ordinato loro alzati si buoni re non osavano avvicinarsi benché sentissero i miei dolci inviti perché internamente dicevo loro che si apprezzassero a me la maestà però che scorgevano in me li tratteneva con santo timore invitati però dalla madre mia si avvicinarono e così poterano contemplarmi e restare pienamente consolati e soddisfatti furono poi ben istruiti dalla mia diletta madre benché con poche parole e informati essurientemente sulla mia persona credettero subito al mistero divino e di nuovo prostrate si mi adorarono e mi confessarono per vero figlio di dio e loro supremo sovrano abbracciarono la mia legge e detestarono l'idolatria mi offrirono i loro doni insieme alle loro persone e il loro cuore in tributo mostrai così ad essi molta benevolenza e gradimento accettando parte dei loro doni ed entrando in possesso completamente dei loro cuori per non lasciarli mai benché si dovessero allontanare da me li ha misi al bacio dei miei piedi per dimostrare il mio amore verso di loro che era davvero molto grande nello stesso tempo stavo trattando con il padre mio affinché desse loro il dono della perseveranza della mia fede e del mio amore gli offrì le loro vite a conferma della fede in me e per la crescita della medesima e nello stesso tempo lo pregai che desse loro un simile sentimento glielo diede il padre mio in modo tale che in quel momento stesso avrebbero sacrificate le loro vite se fosse stato necessario a conferma della verità che avevano conosciuta di più lo pregai che si degnasse di ricevere tutti quei doni che i miei fratelli gli avrebbero fatti come io ricevetti i doni dai quei re e benché tutto ciò che gli dona la creatura è suo avendoglielo dato lui non di meno il padre mio gradisce molto quelle cose che gli si offrono per suo onore per sua gloria e per suo amore quantunque il tutto sia suo non di meno gli è molto grato ed accetto ciò che gli offre la creatura la quale essendo libera di disporre di ciò che ha ricevuto dal padre mio per proprio mantenimento rinuncia ad esserne proprietaria per offrirlo a lui quando la creatura gli lo offre con buon cuore e corretta intenzione avendomi compiaciuto in questo il padre mio e promettendomi di ricevere tutto ciò che dai miei fratelli venisse offerto quantunque fossero state cose viglio di poco conto secondo la possibilità di chi lo offre avendo dichiarato di gradire un bicchiere d'acqua dato per suo amore lo pregai che si degnasse di dare a tutti un cuore distaccato da tutte le cose del mondo perché lo potessero offrire libero a lui senza attacchi terreni come di fatti mi offrirono i loro cuori quei buoni re tutto mi prometteva di fare il padre come già lo va praticando i miei fratelli però si lasciarono prendere il cuore dalla cupidigia e dall'affetto per cose terrene queste fanno più impressione nei loro cuori che non le ispirazioni divine ma le cose mondane sono come tante spine che soffocano la semente della divina parola e delle divine ispirazioni vedevo tutto questo e ne sentivo grande pena mi affliggevo molto nel vedere il poco frutto che ricamavano i miei fratelli dalle grazie che avrebbe largite loro il padre mio per le suppliche fatte gli da me quando mi dava pena vedere il cuore dell'uomo creato per amare il padre mio attaccato alle cose terrene e di suo affetto tutto rivolto alle cose create e visibili tanto più mi affliggevo nel vedere che un cuore così indegno come quello che ama il vizio ed odia la virtù ama la bugia ed odia la verità questo dico lo vedo dominare sopra la terra come fosse padrone assoluto di se stesso di tutte le cose lo vedo vivere con baldanza quasi non vi sia alcuno sopra di lui è come se dio non fosse il padrone assoluto di tutte le cose e che non potesse in un istante fulminarlo e ridurlo in niente vivere così dimentico della sua salvezza come se per lui non vi fossero gli eterni castighi quanto mi affliggevano questi cuori sposa mia così induriti e perversi tanto più che vedevo che recavano un grande disgusto al padre mio e lo provocavano a sdegno verso di loro per questi io porgevo continue suppliche al padre perché si placasse non li castigasse come era solito fare prima che io venissi al mondo udiva il padre le mie preghiere e non poteva non esaudirle perché l'amore che mi portava non gli permetteva che non mi compiacesse in tutto ciò che da lui bramavo mi diceva spesso domanda amato figlio ciò che brami da me perché io sono pronto a concederti ciò che brami perché sei il mio figlio di letto e perché adempi perfettamente la mia volontà ringraziavo poi il padre mio dell'amore infinito con cui mi amava e della liberalità che usava con me concedendomi tutto quello per cui io lo pregavo lo ringraziavo anche da parte di tutti i miei fratelli perché tutte le grazie che io domandavo al padre mio erano per la loro utilità non essendo essi capaci di rendere al padre mio le dovute grazie gliele rendevo io per tutti e restava soddisfatto molto più dei ringraziamenti fatti solo da me che se l'avessero ringraziato tutti insieme partenza dei magi dopo che i re ebbero fatte le loro atturazioni e offerte e dopo che furono istruiti dalla mia diretta madre incominciarono a trattare tra di loro del ritorno ai loro paesi spinti dall'affetto verso di me non avrebbero voluto lasciarmi e stimavano una grande sorte di aver potuto trattare con me ma già avevano saputo che la volontà del padre mio era che ritornassero ai loro paesi perché con il loro buon esempio potessero dare vita spirituale a molti e condurre la gente pagana alla conoscenza del vero dio essendo essi stati primi chiamati alla mia fede dovevano essere come le pietre fondamentali di così grande edificio che già avevo destinato di costruire volendo ridurre i pagani alla conoscenza del vero dio decisero di partire e tornare ai loro paesi non si decidevano a partire e poiché loro cuori erano rimasti preda del mio amore non potevano allontanarsi da me senza sentire una grande pena anch'io la sentivo per la loro partenza vedendoli tanto affezionati e avevo di essi una grande compassione ed anche con atti semplici dimostravo loro il dispiacere che sentivo offrivo quella pena al padre mio e lo pregai perché per quella pena che io provavo e per la rassegnazione che avevo a suo santo volere si fosse degnato di dare tanta forza e virtù a quelle anime che per adempiere il suo volere si sarebbero separate dagli amici anche più cari affinché avessero potuto fare prontamente di buon cuore e si rendessero graditi a lui con un perfetto distacco da tutte le creature tutto ciò mi promise il padre mio consapevole della malizia di erode e conoscendo la strage che avrebbe fatto di tanti innocenti per causa mia e che mi avrebbe voluto uccidere per timore che io lo privassi del regno pregai il padre mio che si degnasse di far intende dai re la cattiva intenzione del nemico erode affinché non avesse potuto effettuare il suo perverso disegno verso di me lo fece il padre mio e per mezzo di un angelo fece avvisare il re nel sonno affinché non tornassero dai erode e per altra via ritornassero ai loro paesi come fecero presa dunque licenza i santi re partirono ma con quanto dolore nei loro cuori quante volte rivolgevano i loro volti legati di lacrime verso di me che grande violenza fecero a se stessi per uscire da quella grotta la loro stimata e gustata come un vero paradiso quanti sospiri uscivano dai loro cuori infiammati d'amore quanto si raccomandavano a me e alla madre mia come ne donavano non solo i loro regni ma anche le loro stesse persone in perpetua sudditanza riconoscendola per loro vera regina risoluti alla fine partirono accompagnati dalla mia grazia e celeste benedizione previsione della strage degli innocenti partiti che furono i re restai con la mia diretta madre molto consolato per la loro conversione e per quella di tutti i pagani che in avvenire doveva seguire prima dal mezzo dei re e poi dei miei apostoli tra tanta consolazione provai sposa mia una grande amarezza che molto mi affliggeva per la crudeltà di erode che voleva fare strage di tanti poveri innocenti per trovare la mia persona e darmi la morte quanto mi affliggeva sposa mia questa grande crudeltà vedevo di essere odiato da uno del mio popolo e odiato a morte appena nato indugiò l'inico erode per qualche tempo aspettando il ritorno dei re ma vedendosi deluso si infuriò intanto io sposa carissima soffrivo una grande pena per la malignità di quel cuore duro offrivo questa pena al padre e lo pregavo a convertire il cuore di erode dal suo brutale disegno ma il padre in questo non mi compiacque e fece ciò che nell'orto del genzema gli si verificò mi disse che la sua volontà era che io fossi sottomesso all'ordine degli nicolè e che con la mia fuga in egitto mi sarei liberato dai suoi pessimi ordini infatti sposa mia così fu dovetti fuggire come a suo tempo vi dirò intanto osservate come il padre mio in tutte le richieste fatte gli mi compiacque per quello che apparteneva all'utilità dei miei fratelli ma per quello che riguardava la mia persona più volte me lo regò volle che io patissi in tutti i modi persecuzioni ingiurie villanie schermi ingratitudini disprezzi di ogni sorta di oltraggi ringraziavo io per questo il padre mio e lo pregavo che quanto dure d'aspre fossero per me le pene altrettanto dolci e soavi le rendesse ai miei seguaci con tutta l'amarezza la facesse pesare su di me perché volentieri tutto soffrivo per obbedirgli per amore dei miei fratelli che molto bene conoscevo quelli che avrebbero voluto seguirmi avrebbero dovuto soffrire molto perché così vengono trattati dal padre mio quelli che gli ama e ciò per farli meritare e perché siano grandi nel suo regno mi compiacque in questo il padre mio e infatti provavo tutta l'asprezza del patire questo era sufficiente al padre mio per decretare di rendere dolce il patire ai miei seguaci partecipando ad essi il suo amore e la sua grazia veramente sposa mia ad un cuore amante sono molto dolce e gradite le pene tutto questo in virtù delle mie preghiere io solo vorrei gustare le amarezze senza una goccia di consolazione e quando sentivo qualche consolazione nella mia infanzia subito veniva amareggiato da qualche travaglio o patimento essendo partiti dai magi come dissi restai con la mia diretta madre con molto assai glorioso la guardai riempiendola di consolazione le domandai qualche ristoro ed ella mi porse il suo purissimo latte nel prenderlo feci le mie solite offerte al padre mio come mi dissi sopra rimaneva piena di consolazione la mia diretta madre per l'alimento che mi aveva dato ed io ristorato al quanto mi addormentavo nelle sue braccia dormiva la mia umanità ma lo spirito trattava con il padre mio poiché non tralasciai mai di trattare con lui nel sonno mi era l'impedimento il viaggio di ritorno dei magi nello stesso tempo vedevo questi santi re andare in loro paesi tanto tristi per la lontananza della mia persona vedevo anche gli disagi che avrebbero patito a ritornare per altra via molto disastrosa e quanto per amore mio avrebbero patito in quel viaggio così lungo pregai il padre mio di assistere di con grazia particolare e di non abbandonarli mai come infatti feci perché ebbero una grande protezione ed anche l'assistenza di molti angeli inviati a loro dal padre mio benché invisibili eri pregavano loro molti benefici non lasciai mai di guardare quei buoni eri con occhi di compassione e di amore ma in quel viaggio lo feci particolarmente pregai il padre mio che poiché egli aveva amore e compassione per quelli che pativano per amore mio così egli avesse compassione per tutti coloro che per amore mio avessero sostenuto tormenti patito disastri e intrapreso viaggi per la gloria sua e mia si degnasse poi assisterli e di dare a tutti il suo potente aiuto e la sua grazia inviando angeli il loro soccorso mi promise di farlo il padre mio come continuamente lo pratica con tutti quelli che patiscono per suo amore e sostengono fatiche per sua gloria dando a tutti la sua grazia gli aiuta e gli soccorre per mezzo degli angeli che in molte occasioni si rendono anche visibili per liberare le creature dai pericoli e da molte insidie che vengono tramate dai suoi nemici tristezza di gesù e di sua madre svegliato dal sonno mi feci vedere dalla mia madre con volto triste poiché infatti stavo pensando a quante sofferenze sarebbero stati sottoposti quelli che mi avessero onorato col seguire me e i miei esempi sentivo una grande pena per loro e voglio provare prima in me stesso tutte le pene ed affezioni loro affinché nessuno avesse potuto dire io provo questa sofferenza che non ha provato il mio redentore no sposa carissima voglio provare il tutto prima in me stesso e con molta più sensibilità di quello che provano loro stessi lo senti nell'anima che è la parte più nobile e sensibile e nel corso della mia predicazione lo provai anche nella mia umanità si affliggeva molto la mia diletta madre nel vedermi così triste e addolorato non sapendo né la causa perché più delle volte gliela nascondevo per farla soffrire maggiormente perché così era la volontà del padre mio e la temeva che tale turbamento fosse provocato da lei e così si affliggeva molto in queste pene veniva però sostenuta dalla grazia divina altrimenti sarebbe morta di dolore perché la pena maggiore che lei provava era il timore di aver dato qualche dispiacere a me mi vedeva come suo dio e riconoscendo in me quella divinità che mi era unita recava pena anche a me il vederla tanto afflitta e adolorata offrivo al padre la mia pena ed anche quella della mia diretta madre e lo pregavo che in virtù di quella si fosse degnato di dare luce e grazie a quelle anime per la cui colpa viene disprezzato affinché queste si conoscano colpevoli e si capiscano quanto grande cosa sia dare disgusto a un dio così buono lo pregavo che sentano quel dolore che devono sentire per un male così grande e benché l'offesa sia una cosa molto leggera non di meno si può chiamare sempre grave perché contraria l'infinita sapienza e porta dispiacere a una bontà infinita sposa mia quanto mi affliggevo anche per quelle cose stimate minime dagli uomini ma al cospetto del padre mio non sono minime perché qui al suo peso l'offesa verso l'offeso e secondo il suo merito si compiaceva molto il padre mio di tutto ciò che gli offrivo e mi concedeva tutto ciò che in virtù delle mie offerte gli domanda lo va continuamente praticando e molte sono quelle anime che restano illuminate e pentite la maggior parte però non ascolta le divine ispirazioni né stima le grazie celesti perciò resta priva di quella luce di questa grazia offrendo il padre mio con tanta facilità e sembra loro che il disgustare un dio così buono e così potente sia una cosa da poco conto quando invece uno dei maggiori mali che si possono fare non mancai però di dare presto sollievo alla flitta madre facendomi vedere tutto amabile e allegro perché dopo che avevo trattato con il padre mio e gli avevo fatto quelle offerte e quelle suppliche lo vedevo placato e soddisfatto condiscendeva quindi alle mie richieste e mi concedeva ciò che bramavo restavo tutto allegro e così si rallegava anche la madre mia il cibo gustoso e saporito continuai a vivere per molti giorni nel modo che vi ho detto sopra sia nell'esterno che all'interno trattando con il padre mio ogni volta che la mia madre suo sposo giuseppe si cibavano li osservavo e poiché per il cibo stesso essi già lo davano e ringraziavano il padre mio offrivo quei loro ringraziamenti uniti ai miei e così venivano ad essere più graditi al padre ed avere più merito facevo in modo che quel poco cibo che prendevano fosse gustoso e saporito già che per la loro povertà e mortificazione non gustavano cibi conditi né vivande delicate si rendeva però ad essi tanto gustoso quel poco cibo perché povero e scarso che non avrebbero cambiato con le vivande più squisite dei mondani pregavo il padre mio che si degnasse di concedere una tale grazia a tutti quelli che nel cibarsi non solo si mortificano nel mangiare parca mente ma si cibano alla presenza mia cioè tenendo la mia presenza fissa nella mente loro a questi sì che si rende saporito ogni cibo benché povero e disgustoso di tutto mi compiacco il padre mio ed io davo a lui le rodi più ardenti del mio cuore per me e per quelli che si comportavano così nel cibarsi e che sono da lui favoriti con il far loro gustare tanta dolcezza sua vita e pace di anima e di corpo in attesa della presentazione al tempio essendo passati già molti giorni nel modo che ho detto si avvicinò il giorno tanto da me bramato di essere offerto al padre mio nel tempio con quanto desideri aspettavo il giorno così felice per gli uomini perché in esso dovevo essere offerto per la loro retenzione più desiderata da me che da loro mi feci vedere in quel giorno col molto più sereno e allegro del solito e di questo si rallegrò e si consolò molto la mia diretta madre gioiva il suo spirito nel vedere l'amabilità e la dolcezza del mio aspetto ma poco lo durò perché venne poi tanto amareggiata per la profezia di Simeone come sentirete arrivato dunque il giorno in cui dovevo batire dalla grotta per andare al tempio parlai alla mia diretta madre e le spiegai i desideri del mio cuore perché anche lei mi imitasse perfettamente come fece le parlai con voce sensibile a lei soltanto quanto restò consolata nell'udire le mie parole in quell'età così tenera perché le pronunciavo con molta grazia e amabilità ed anche speditamente non come fanno gli altri bambini furono in tanta consolazione all'anima sua quelle parole che abbracciandomi con amore più ardente andò in estasi e così comprese pienamente il divino mistero che in quella presentazione si racchiudeva mentre la diretta madre stava così in estasi ed elevata nello spirito io mi intrattenevo con il padre mio e lo pregavo che per quel gran desiderio che avevo di essere offerto a lui nel tempio benché già fossi suo figlio vero e naturale si degnassi di dare a tutti i miei fratelli un grande desiderio di darsi a lui padrone assoluto molti però si allontanano da lui e si danno in potere dei suoi nemici infernali mi compiacco il padre mio in questo come già aveva fatto in ogni altra cosa di questa mia richiesta si dimostrò molto contento e mi promise di fare in modo particolare quello che gli domandavo perché gli stesso desiderava che tutte le creature avessero avuto un vero desiderio di offrirsi e donarsi tutte a lui veramente il padre mio adempia la promessa pattami perché non si trova nessuno dei miei fratelli per grande peccatore ostinato che sia che non abbia in ogni momento stimoli al cuore e che non senta nascere nell'anima sua il desiderio di darsi a Dio ed essere tutto suo nel cuore di molti però fa poca presa un tale desiderio perché non vogliono corrispondere alla grazia di vita e la loro cattiva volontà fa resistenza ma ciò nonostante non lascia il padre mio di dare ad essi stimoli al cuore e di chiamarli con voci amabili grande durezza del cuore umano che osa di fare esistenza agli stimoli nella divina e paterna bontà che con tanto amore gli invita ad andare a lui e adonarsi a chi lo creò solo per sé sentivo, sposa carissima, una grande pena per la durezza dei miei fratelli perché già li vedevo tutti distintamente e molto più mi affliggevo nel vedere il padre mio verso di essi tanto pronto e generoso nel beneficarmi e tanto paziente nel sopportarmi conoscevo l'infinita sua bontà il suo amore e l'ingratitudine delle creature nel negargli tutte le cose che da esse desiderava e nel regargli anche se stesse non potevo trattenere le lacrime e per questo ne sparsi in abbondanza offrendo dal padre mio con tanto amore e lo pregai che per quel mio dolore e per quelle lacrime a lui tanto care si degnasse di soffrire l'ingratitudine dei miei fratelli e non desistesse mai di usare verso di essi le solite sue misericordie come già lo va praticando e l'infinita della sua mente Grazie a tutti